Buongiorno, grazie per l'invito istituzionali che riguardano questa mattinata e che riguardano l'iniziativa di questo tipo, un convegno di questo veramente attuale che riguarda i nostri territori per l'attenzione che dobbiamo avere. Hanno progetti di livello locale, di livello regionale, ma anche per questo dal treno arrivando fino a Modena. Queste settimane abbiamo lavorato insieme a un'amministrazione comunale, l'azione ferroviaria di Trento, cioè di uscire a parte del Trentino negli anni a venire. Penso ai progetti che abbiamo in cui, se allora si riuscisse a portare a casa anche con il Governo nazionale la trattativa, altro anche per un forte legame con gli progetti che il nostro territorio sta portando avanti. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. E' un'ambiente importante. I like to say that you are different disciplines that concur to global temperatures on our planet. As notary totalmente, you know cum sostengli cyber isただichist will be like azules an di milestones. I take advantage that it's a friday night that engineers, we would like to engineer that scenario. So, if you give the view of the correlation between what we say and what we do in terms of speaking of the question, you know, in a perfect manner, because he's an expert, Sam, he's done 30 years since the onset of Industrial Revolution, so help, you know, create those things, one of it, they'll spray aerosols in the ocean. What we're trying to do is we're trying to store this...